Siamo per presentarvi la Messa in Italiano a New York. Tele Mater vive solo di donazioni e della vostra generosità. Vi ringraziamo per i vostri contributi che ci consentono di continuare a portare la parola del Vangelo in italiano nel mondo. Continuate ad aiutarci, anche la più piccola donazione può fare la differenza. Visitateci telemater.org barra sostienici. Grazie! Viene al Signore, la terra che attende. Alleluia! Viene al Signore. Viene al Signore, la terra che attende. Alleluia! 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 Celebriamo oggi, carissimi, la prima domenica di Avvento. Abbiamo terminato con il tempo ordinario. Abbiamo celebrato la solidità di Cristo, Re dell'Universo. E oggi iniziamo con questo periodo di Avvento e oggi iniziamo con questo periodo di Avvento dell'attesa del Santo Natale. offriamo la Santa Messa per Angelo e Piero Alu. messa e offerta da Giovanni Caruso. Preghiamo anche per la guarigione di Bell Spots. celebrare degnamente i nostri santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata, sempre Vergine Maria, Gli Angeli, i Santi e voi, fratelli, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. e a tutti i nostri peccati. Grazie a tutti. 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 Tu sei nostro padre. Noi siamo argilla e tu come colui che ci plasma. Tutti noi siamo opera delle tue mani. parola di Dio. rendiamo grazie a tutti. 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 Il figlio dell'uomo che per te hai reso forte Va a splendere il tuo volto e salvaci, salvaci, Signore Sia la tua mano sull'uomo della tua destra Sul figlio dell'uomo che per te hai reso forte Da te mai più ci allontaneremo Facci rivere e noi invocheremo il tuo nome Va a splendere il tuo volto e salvaci, salvaci, Signore Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi Fratelli, grazie a voi e pace da Dio nostro e dal Signore Gesù Cristo Rendo grazie continuamente al mio Dio per voi A motivo della grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù Perché in Lui siete stati arricchiti di tutti i doni Quelli della parola e quelli della conoscenza La testimonianza di Cristo si è stabilita tra voi così saldamente che non manca più alcuna carisma a voi Che aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo? Egli vi renderà saldi fino alla fine irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo Degno di fede e Dio dal quale siete stati chiamati alla comunione con il Figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro Parola di Dio Rendiamo, grazie a Dio Parola di 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 Dio Signore, Gesù Cristo, il giorno di Natale. Fra un mese più o meno celebreremo il Santo Natale. Gesù bambino ritornerà. Come ogni anno celebriamo questa santa solennità. E Gesù oggi ci dice di vegliare, di stare sempre svegli, pronti per attendere la venuta del nostro Salvatore e Redentore, Gesù Cristo. Tempo di speranza, di preghiera, di silenzio, di discernimento, di meditazione della parola del Signore. Una volta chiesero a San Pio quale fosse la lingua di Dio, quale lingua parla Dio. Padre Pio rispose, il silenzio. Il silenzio per ascoltare la voce di Dio che ci parla, che ci vuole parlare, che ci vuole indicare la via della salvezza. Abbiamo celebrato anche in questi giorni il giorno del ringraziamento, il Thanksgiving. Ci dicono che noi in Italia non celebriamo il Thanksgiving, il giorno del ringraziamento. Lo sappiamo che noi ogni giorno in effetti ringraziamo a Dio nel santo sacramento dell'altare, celebrando la Santa Messa. E come sappiamo l'Eucarestia significa proprio ringraziamento. Questo che noi facciamo durante ogni messa. Ringraziamo a Dio per tutti i Suoi benefici. Allora abbiamo, carissimo, in questo periodo di più o meno un mese per prepararci all'avvento, all'avvenuto di Gesù bambino. Abbiamo visto dopo 33 domeniche di tempo ordinario la solennità di Cristo re dell'universo. Gesù tornerà per giudicare i vivi e i morti. C'è una domanda aperta nel Vangelo. Quando il figlio dell'uomo tornerà, troverà la fede sulla terra? Questa è una domanda aperta. Poi per quanto riguarda i tempi, nessuno conosce i tempi. Gli apostoli chiesero Gesù. Nessuno conosce i tempi. Forse dipende da noi, dalla nostra conversione. Dipende dalla nostra fede. Se la manteniamo, se manteniamo accese le lampade della fede, della speranza e dell'amore di Cristo Gesù, abbiamo visto che quando il Signore tornerà, separerà gli uni dagli altri. Le pecore dalle capre. E dirà alle pecore, poste alla sua destra, venite a me, benedetti dal Padre mio, perché mi avete riconosciuto nel più debole, nel più povero, nell'affamato, nel prigioniero, nello straniero, in colui che aveva bisogno. Nel più piccolo dei miei fratelli che aveva bisogno. Venite a me voi tutti, che mi avete aiutato. Quando mai ti abbiamo visto? Risposero i giusti. Ogni volta che avete aiutato uno di questi miei fratelli più piccoli, che erano nel bisogno, avete aiutato a me. Qualunque cosa abbiate fatto a uno di questi miei fratelli, che erano nel bisogno, l'avete fatta a me. Gesù era là, proprio in quella carne sofferente. abbiamo visto come invece alle capre, poste alla sinistra, dirà non vi conosco, non mi avete dato da mangiare, non mi avete dato da bere, non avete pregato, non mi avete visitato in carcere. Via da me, dirà, maledetti, non vi conosco, nel fuoco eterno. Pensate un po', questo disse Gesù. quando tornerà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Ci sono carissimi due tipi di fuochi. Uno è il fuoco dell'inferno, del peccato, delle tentazioni, delle persecuzioni. L'altro è il fuoco dello Spirito Santo. Dobbiamo essere in grado, carissimi, di bruciare il fuoco del male, del diavolo che ci perseguita, con il fuoco dello Spirito Santo, con il fuoco delle opere di carità, di misericordia, di compassione, riconoscendo proprio a Gesù, in quel povero, in quell'ammalato. Allora Gesù ci invita alla preghiera, ci invita, come invitò gli apostoli Pietro, Giacomo e Giovanni sul monte Tabor per riposare un po', per stare un po' in silenzio, per ritirarsi da questo mondo così confuso, movimentato, per stare un po' in silenzio con lui, affinché egli torni. Come sappiamo, lui è già in mezzo a noi, però vuole nascere e rinascere ogni giorno nei nostri cuori. Noi dobbiamo appunto vegliare, vigilare, perché non sappiamo quando tolverà, non sappiamo quando ci richiamerà a tornare alla casa del Padre. Quando ero in Italia c'era un sacerdote che diceva dentro di noi c'è un agnello, un agnellino e un lupo rapace. E allora chiese a noi, avevamo il convento, il monastero, il seminario, il discernimento. Chi è secondo voi più grande? Il lupo rapace o l'agnellino? Entrambi sono dentro di noi. Ma chi è secondo voi più grande? Nessuno sapeva rispondere. E allora questo sacerdote, Francescano, papucino, mi ricordo, disse, dipende da noi. A chi diamo di più da mangiare? Al lupo o all'agnello? Al lupo, con i nostri peccati, con il nostro egoismo, o all'agnellino, cercando di essere mansueti, umili all'ascolto, nella parola, fatta carne, nel Vangelo di Cristo. Dipende da noi. A chi diamo di più da mangiare? riconosciamo a Gesù nei più bisognosi? O pensiamo solo a noi stessi? O siamo occupati a giudicare? O facciamo silenzio nel nostro cuore per ascoltare Dio che ci vuole parlare, che ci vuole chiamare, che per ognuno di noi c'è la missione in questo mondo? Allora vogliamo, carissimi, pregare in questo periodo prezioso dell'Avvento, affinché Gesù parli al nostro cuore, affinché ci indichi la via. Come abbiamo visto purtroppo dopo questa vita, non purtroppo, ma ci sarà anche l'eternità. E l'eternità può essere un purtroppo o un meno male. Può essere l'eterna condanna o può essere la vita eterna. Vende da noi. Se diventiamo agnelli mansueti, oppure se preferiamo essere capre o lupi rapaci in questo mondo. Abbiamo visto che ci fu il diluvio universale, ci fu la distruzione di Sodoma e Gomorra. Ci fu la distruzione. Se andate lì, anche oggi c'è il mar morto, c'è il deserto, non c'è vita. Prima ancora, di Sodoma e Gomorra ci fu anche il grande diluvio universale, l'arca di Noè. Ecco, speriamo che oggi non ci sia una autodistruzione. Se ci allontaniamo troppo da Dio, rischiamo di autodistruggerci. Sarà un suicidio spirituale se ci allontaniamo dal fuoco dell'amore, dello Spirito Santo di Cristo. Non possiamo fare nulla senza Gesù. rischiamo un'autodistruzione. Rischiamo di allontanarci troppo e quindi sarà un suicidio spirituale. Noi vogliamo, carissimi, essere uniti. Ogni giorno può essere un giorno per ricominciare con Gesù, per iniziare un cammino di conversione. Ora vogliamo approfittare di questo periodo di avvento per spazzare via dai nostri cuori tutto ciò che magari come dire, fa guerra allo Spirito Santo. C'è la carne, c'è lo Spirito. Se camminiamo secondo lo Spirito Santo di Dio, secondo l'amore, non saremo portati a soddisfare i desideri della carne. Certo, c'è sempre la concupiscenza, questa battaglia continua, però con Gesù saremo in grado di far luce, di far luce, di spianare il cammino che ci porta a Gesù e quindi ad adorarlo, ad adorarlo, ad attenderlo insieme nel Santo Natale che viene. Sia dovato Gesù e Maria. Professiamo la nostra fede, credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenico Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato dalla stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discesa dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzo e Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo e si era alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per gilicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine, credo nello Spirito Santo che il Signore dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato nel mezzo dei profeti, credo la Chiesa una santa cattolica e apostolica professa un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà Amen Nell'attesa del Redentore rivolgiamo le nostre suppliche al Padre che è nei Cieli perché venga incontro alle nostre necessità e a quelle di tutti gli uomini preghiamo insieme diciamo visita il tuo popolo Signore Per la Chiesa pellegrina nel mondo perché faccia parte a tutti gli uomini della speranza che illumina il suo cammino e risvelli in loro l'attesa della salvezza preghiamo visita il tuo popolo Signore per coloro nei quali la durezza della vita ha spento ogni speranza perché la nostra preghiera e la nostra fraternità facciano rifiorire la fiducia e la volontà di impegnarsi per un domani migliore preghiamo visita il tuo popolo Signore per le nostre per le nostre per le nostre comunità cristiane perché la vicinanza del Signore ci stimoli a vincere l'egoismo e la menzogna per vivere nella verità e nell'amore preghiamo visita il tuo popolo Signore per le giovani generazioni perché vedono nel Cristo il modello dell'umanità nuova a cui devono ispirarsi per le grandi scelte della vita preghiamo visita il tuo popolo Signore per tutti noi perché nella realtà quotidiana ci incontriamo con il Signore che un giorno verrà come giudice della storia preghiamo visita il tuo popolo Signore per le nostre intenzioni personali e speciali preghiamo visita il tuo popolo Signore tu ci riveli oh Padre che quanto più grande la nostra attesa tanto più ricco sarà il tuo dono accogli queste nostre suppliche e accresci in noi con la venuta del tuo figlio il bene inestimabile della speranza per Cristo nostro Signore ben inestimabile ben inestimabile ben inestimabile Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.